Vediamo un po', allora, ciao, ciao, se ti è arrivato questo kit è perché hai detto sì, ho detto eccomi ma come aver detto sì, dai, congratulazioni, grazie, stai per mettere al mondo il figlio di Dio, eh, bene, ecco alcune brevi istruzioni di maternità e alcune cose da sapere prima che nasca Salvatore. Ma no, Salvatore, avevamo detto che si chiamava Gesù, Gabriele si è dimenticato, è andato su, gli sono venuti le vertigini, gli sono venuti a dirlo, alle, come definito lo chiamerai Gesù, stai calma. Prima ho fatto una sbista Uno, organizzate lo spazio per il cambio Come tutti i bambini, Gesù non ama stare sul fasciatoio, appena lo stendi si agita, scalcia, nei primi tre mesi di vita, se si arrabbia troppo, vola. Il cambio sarà un momento un po' concitato della giornata Che bello, se questo vuole Regalo Come perché ci sono le cinghie Due, non serve tenere una cucina accanto alla pulla Gesù si illumina Grazie Grazie